Qua nei mobili in cucina non c'è proprio un bel nulla Ho cucinato sto pollo qua con le patate per stasera Non so se mi si raffredda sta vabbè Comunque non so nemmeno chissà quanto bello in cucina Però devo andare a fare la spesa perché non c'è un bel nulla Allora andiamo a fare la spesa Insieme a Stia Fenic e a Rosaneic Rosaneic Oddio Rosaneic Oh mio dio Comunque in cucina non c'è nulla per questo andiamo a fare la spesa Venite subito Ma che c'è la cucina Infatti io ho sempre cucinato io da quando siamo arrivati Sareo cucina Ma da quando? Ho cucito il pollo con le patate non so se l'hai visto Comunque quella macchina andiamo andiamo con quella di Stia Fenic Dai sono andiamo con quella di Stia Fenic Ci mettiamo la spesa dietro Andiamo al supermercato Ecco Aspetta no da qua Supermarket Eh però da me Quanto tempo non entravamo qua dentro Mamuto Prendiamo i sacchetti Ecco Eh prendi il sacchetto Prendi la roba Cosa serve serve Vabbè se ve la frutta prendiamo la banana La carne Cosa vuoi? Compro la carne La carne La carne La carne Non sai Non c'è i soldi Poi c'è invece invece le frutte E che saggio Voglio voglio Le patatine Chi vuole le patatine? Ma sei rick devo fare la spesa Buona Le patatine queste rick No 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 Dopo fanno tipo un cosa molto Ecco qua sta pericola ho presa Un ho preso una banana Poi ho preso Io inizio a mettere le cose qua dietro al L'insalata Cosa fa no? Bravo Ehm Penso che non c'è per nulla Perfetto Ah per andiamo la mela Non c'è che ho preso un cavolo Lo so la fredda Poi lo insalato Scusi Non c'è per me Non c'è per me Non c'è per me Ma è una letto Poi devo scegliere cosa Dovevo prendere Scusate le La bella lettura Ah bella lettura Vabbè quello che è Ah va vabbè Non c'è per me Servi Saria non comprare tante robe Il pomodoro Attenzione Ma perché Un pomodoro gigante Dai Una banana Vede questo Il latte E' il pane Ma come scordi che c'entra E' il pane E' il pane La baguette Ho comprato molto roba Ehm Questa cosa Ho un'idea Ho un'idea Fermi Fermi Comprimoci Fulgone No C'è Comprimoci Fulgone Ho un'idea Vabbè Vabbè La baguette La baguette Si però E' questo pomodoro Ciccante Ehm Sto amorendo Ok Ho un'idea Allora Uno si infila Con tutti sti Tutti sti cosi E poi lo chiudiamo E che sento Vada Vada a chiamare Vada a chiamare Giannino Mantenete sta frutta E' esplosa Il pomodoro Vada No il pomodoro Mi dà il tuo furgone Giannino mi dà il tuo furgone Giannino mi dà il tuo furgone Eh valla a comprare Vada Grazie Giannino Vada a comprare io Ragazzi Giannino Ah c'è una mela Stante Ah appunto C'è pure la mela No C'è una mela La mela C'è la pera La pera non c'è la Che bella spesa No è stato il pomodoro In mano a me Vai andiamo Vai E' Sevi che mi dici tu di me Ok Sarei che mi dici Sicuramente non si ricorda La stanza Sicuramente Sarei come che hai Ma che cosa Sei mangio delle vasi di macchina Sì Sì Vada Senta Guarda Stiamo distruggendo Pensa casa Per questo Per questo Spera di Una mela E' la mela Ok La pera Vabbè Gino Se la va a prendere lui La pera però serviva però Non mi piace la pera Eh facciamo la pizza La pera Ma mi risulti, la casa Vabbè Sì però Rosani è che il tavolo Cioè Oh ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma non c'è Però non c'è Vincio Viene che il quadro hai messo Pensa vede che il quadro hai messo Ah In che se che si danno la pizza Eh Ci mangio il quadro allora Dai Io ho cucito il polagosolo Quello da pizza Ma non c'è Ma non c'è Ma non c'è Quello da pizza Le patate col puno Ehi per questo mangia forza, mangiate Dai mangiate, perché è tuo padre? No, no, in un momento è nato Ah, ok Dai mangiamo, dai mangiamo il pollo con le patate forza Yeah, pollo con le patate